Vicenza, prima avvisaglia di primavera e subito campo marzo, brilla per presenze indesiderate, sostanze stupefacenti nascoste ma anche controlli. A finire nella rete delle forze dell'ordine un nigeriano quarantenne che bivaccava su una panchina con alcuni connazionali alla richiesta di esibire i documenti fa finta di niente e poi divincolandosi in minaccia di uccidere un agente. Bloccato è stato denunciato per esistenza pubblico ufficiale. Il nigeriano inoltre aveva il permesso di soggiorno rilasciato alla prefettura di Padova scaduto da due anni. Fermato anche un altro nigeriano irregolare sul nostro territorio che in auto della polizia ha cercato di liberarsi di 11 grammi di marijuana. Setacciato campo marzo tra foglie, buche, scavate e cestini sono stati rinvenuti complessivamente 210 grammi di marijuana.